Giustizia per tutti i morti, giustizia per tutti i morti, dimissioni, dimissioni, dimissioni. E' due mesi che siamo qua, credo che siamo al 25esimo flash mob, abbiamo iniziato il 4 maggio, siamo dei cittadini mortali, comuni, mortali o immortali perché siamo sopravvissuti a Fontana, Gallera, questa giunta che ha dimostrato di essere catastrofica e criminale nella gestione di una pandemia che era prevedibile e peraltro i piani pandemici approvati dalla regione nel 2006 non sono mai stati attuati, quindi come dire in 14 anni non essere riusciti a prendere atto di quello che peraltro in Cina succede oramai da decenni, quindi nulla di nuovo e quindi abbiamo deciso di protestare perché la vera protesta non è quella su Facebook mettendo i like, esprimendo il proprio dissenso ma la vera mobilitazione è quella di piazza. Io mi sento una cittadina e voglio essere presente e partecipare e testimoniare al resto della città di Milano e dei cittadini di Milano, le cose si possono fare e si devono fare, la democrazia è un grande strumento ma va partecipata perché se no rischia di morire e ci siamo un po' vicino. Sono qui perché credo che dopo tutto quello che è successo l'unico modo per sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma anche le persone che gestiscono la nostra città, la nostra sanità e il sistema di vita di Milano sia quello di scendere in piazza e ricordarglielo ogni volta, quindi noi ogni settimana siamo sia davanti alla regione che qua davanti a Palazzo Marino per ottenere, speriamo qualcosa. Già un mese e mezzo fa abbiamo lanciato su Facebook questa mia proposta di fare un esposto collettivo abbiamo individuato due avvocati, ci stiamo lavorando, l'esposto collettivo sarà in sintesi per procurata pandemia dovuta proprio a omissioni di soccorso e mancata vigilanza. È un processo penale estremamente importante, faremo un esposto collettivo che in soldoni anche se non è corretto da un punto di vista giuridico è una sorta di class action e cioè faremo sottoscrivere a tutti quelli che vorranno partecipare la cosa interessante è che sono cittadini normali, cioè non siamo vittime dirette nel senso che io forse sono stata malata, lo scoprirò domani ma comunque non ho avuto non sono stata ricoverata, non ho parenti morti ma comunque siamo stati esposti ai crimini, alla scellerataggine di Fontana e Gallera che non hanno curato e prevenuto la tutela appunto di noi milanesi e lombardi. Come mai, come mai i tamponi non li fai, d'ora in poi, d'ora in poi state a casa solo voi.